Piccolo Zorro Ecco qua, abbiamo il piccolo Zorro Allora andiamo con la manina così finalmente arrivano Prego E allora abbiamo avuto questa piccola improvvisata di principe, principesse e Zorro E un grande applauso al duo di Massimo e Francesco L'applauso lo vogliamo sentire più forte però, scusate Anche perché ragazzi, scusate ma, Tony Manero era vestito così, minzato da Night Fever Russo Massimo Massimo, perché questo tema, che bellissimo, intramontabile E, vabbè, ho pensato questo perché pensavo fosse una maschera originale Libertà E perché rappresenta la libertà, bravo Un grande applauso Allora, passiamo un attimo Allora, stiamo cercando un bambino di 6 anni